Signora Prefetto, quali sono le sue priorità qui a Firenze? In questo momento credo che di priorità ce ne sia fondamentalmente una, che poi è quella che riguarda tutto il territorio nazionale. Traghettare questo territorio, così come poi tutto il resto del territorio nazionale, ha una situazione di normalità. Quindi cercare di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della salute e la tutela di diritti fondamentali che comunque vanno garantiti. La Toscana spera nelle riaperture del prossimo fine settimana. Lei teme il rischio di assembramenti? Che messaggio vuol dare ai cittadini? Il rischio c'è, anzi, dobbiamo assumere la consapevolezza che il rischio c'è. È evidente che le prescrizioni ci saranno, saranno prescrizioni probabilmente che riguarderanno proprio la messa in sicurezza della mobilità nel periodo natalizio, che sappiamo che è particolarmente intenso. La necessità è un richiamo alla responsabilità di ciascuno. Rafforzerete i controlli nelle prossime settimane? Faremo domani un comitato provinciale, anche per rimettere appunto il quadro dei controlli in vista anche delle festività. Sicuramente sì, verrà riadottato un sistema che tenga conto eventualmente dell'ingresso nella zona arancione, che ovviamente consentirà una mobilità maggiore.